Le vecchie piantine di carta dell'era Gutenberg non funzionano più, non servono più. Tra l'altro quando provate a ripiegarla andate sotto shock perché non si trova mai il verso giusto. Per girare Berlino, vedete qui mi trovo alla porta di Brandenburgo, ho portato con me un P8 Lite. Perché? Perché ha delle connessioni wifi molto potenti e ho potuto in questo modo fare a meno di scaricare dati che sono comunque costosi all'estero. Connessioni private, connessione pubblica, qui a Berlino ce ne sono tante e mi sono scaricato un'applicazione che vi consiglio, City Mapper. Con questa applicazione partendo da casa, da dove voi siete o dall'albergo potete prendere le metropolitane, incrociare altri metro, andare con gli autobus, con i tram oppure scegliendo dei percorsi a piedi visiterete le città in maniera molto semplice. A disposizione ci sono tantissime città, compresa ovviamente Milano.